Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Addio a Marco Maggioli, l'ex assessore combattuto fino all'ultimo contro la SLA Ancora una notte di furti, visitati dai ladri bar e tabacchi Rientra a casa in anticipo e si trova faccia a faccia con i ladri Brutta avventura per l'imprenditore fanese Alessandro Gualandi Si rompe la caldaia ma per ripararla ci vogliono 50.000 euro Chiusa la piscina di Nisaldalaia Arriva il freddo e il gelo ma durerà poco Ieri intanto c'è ancora chi ha trovato il tempo per farsi un bagno al mare Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del telegiornale cari amici telespettatori di Fanno TV Cominciamo dai ladri e soprattutto dalla brutta avventura capitata a questo imprenditore fanese Che si è trovato faccia a faccia con i malviventi Attimi di terrore in una villetta di via Piccinini a Fanno Il suo proprietario si è trovato davanti tra individui che la stavano svaliggiando Nella serata di venerdì scorso Un'esperienza che sicuramente rimarrà impressa per molto tempo Nella memoria di Alessandro Gualandi Concessionario dei marchi Toshiba e Olivetti Che per una ragione fortuita ha rientrato a casa prima del previsto Erano le 18 e 45 Cosa che ha sorpreso i ladri Che dovevano avere precedentemente monitorato le abitudini dell'imprenditore 64enne fanese Ma che non li ha affatto colti alla sprovvista Anzi, dopo averlo strattonato e fatto cadere a terra Lo ammoniscono perentoriamente Stai zitto e non ti faremo del male Gualandili a seconda anche perché si rende conto che ha a che fare con dei professionisti Esperti e sicuri E non con dei ladruncoli improvvisati dalle reazioni imprevedibili A piano di sopra della villetta vivono gli anziani genitori degli imprenditori Ed evitare il loro coinvolgimento diventa la preoccupazione principale dell'uomo A quel punto i ladri si fanno consegnare le chiavi della cassaforte Arraffano il contenuto, due orologi e poco oro E gli svuotano il portafogli che aveva con sé Al cui interno c'erano 5-600 euro E si dileguano velocemente Con calma apparente li ha anche invitati ad andarsene Dato che tutto ciò che era possibile prendere era stato preso Calma apparente appunto E freddezza che sorprende lo stesso protagonista Ma si sa, le reazioni umani sono le più inaspettate e sorprendenti Anche di fronte al pericolo Ora sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fano Coordinati dal capitano Alfonso Falcucci Ladri in azione anche durante la notte Presi di mira a bar e tabacchi Assalto al bar tabacchi con scasso Questo sembra essere stato il copione andato in scena la notte scorsa A Fano e circondario Tre gli obiettivi sotto il mirino dei ladri e in due dei quali è stato fatto centro Con un bottino rilevante anche tra gratta e vinci e sigarette Il maltolto ammonta a oltre 25.000 euro La sequenza inizia al bar arcobaleno a Carrara E l'1.40 di notte sono in quattro Col viso coperto e cappellini Sfondano una vetrata a colpi di mazza Portano via, cambia soldi, gratta e vince e sigarette Bottino oltre 10.000 euro E un dentro e fuori da manuale Due minuti, tempi da rendere inutile qualsiasi intervento di vigilanza e forze dell'ordine Quattro erano? Erano in quattro, perlomeno quelli che sono entrati Dopo non so se c'era uno anche fuori, questo non lo abbiamo visto E niente, alle 1.50 così circa mi hanno chiamato quelli della vigilanza Che mi ha detto subito che sono entrati In due minuti, loro dalle 1.40, 1.42 hanno portato via quello che potevano Cosa hanno portato via? Hanno portato via la cambia soldi E hanno portato via i gratta e vinci dietro al bancone del bar Le sigarette, quelle che erano esposte Adesso ancora il valore di preciso lo dobbiamo stimare Perché sinceramente oggi ancora hanno avuto tempo Occhi e croce, sopra 10.000 euro tra la cambia soldi Dalle 10.15 penso Secondo obiettivo, in ordine cronologico La tabaccheria e cartoreria del centro commerciale del Vallato Sono le 2.50, anche qui stesso copione A colpi di mazza sfondano il cancello del magazzino Al piano interrato portano via il carico di sigarette Appena fatto il venerdì Salgono la scala che porta al negozio Per prendere i gratta e vinci Ne arraffano quelli che possono In fretta e furia, disturbati dal nebbiogeno Qui nel locale, sono in 2, in totale non si sa Anche qui, dentro e fuori, in 4 minuti esatti Un tempo da manuale, bottino 15.000 euro Poi hanno portato via tutte le sigarette E poi sono arrivati fino qui A prendere un po' di gratta e vinci Come si ricomincia? Con una gran rabbia E con anche un po' di tristezza Un po' di... non lo so Siamo a notte fonda Obiettivo il bartabacchi del distributore Erg In vea a Papiria Anche qui il copione si ripete La stessa via d'accesso dell'altra volta I campi sul retro del locale E la porticina del retro protetta Da un robusto cancello Che evita l'effrazione da parte dei ladri E scatta l'allarme Stessa via d'accesso dell'altra volta Esatto Sono arrivati sempre dalla stessa via dietro qui Che poi porta al canile E hanno tentato di nuovo di rompere Ciò che vediamo, la porta Hanno rotto la rete Fortunatamente non si sono riusciti Perché? Comunque non hanno fatto niente Perché sono andati e tornati via subito Esatto Loro appena hanno sentito la sirena dell'allarme Sono scappati Speriamo che le forze dell'ordine Aumentino un po' Ma non solo per noi Anche per l'altra gente Per farla stare un po' più tranquilli Una volta arrivata la volante Dei malviventi Nessuna traccia E la presenza dei militari Fino alle 5 del mattino Ha evitato che i malintenzionati Tornassero a finire il lavoro Almeno fino al prossimo Assalto al Bartabacchi Assalto invece in un Bancomat a Fossombrone Una deflagrazione violentissima E spaventosa Nel cuore della notte A Fossombrone Ha fatto sobbalzare Dai letti I vicini Della filiale Del Monte dei Paschi Di Siena Sabato notte Alle ore 2.30 Un secondo assalto Al Bancomat Dopo quello di agosto Che potrebbe aver fruttato i ladri 35.000 euro Ma sulla carta però Dato che A tanto ammonta La cifra contenuta Nello sportello automatico Ma forse Data la violenza Dell'esplosione Diverse banconote potrebbero Essere andate distrutte Una vetrata blindata Pesante decine Decine di chili E volata come un foglio di carta Diversi metri dalla banca Dopo che L'esplosione del gas Ha sventrato Letteralmente La filiale Dell'istituto di credito Fiorentino Rapida e decisa L'azione dei ladri Pochi secondi appena Una successione Fulminia Che però Lascia aperti Diversi scenari Al vaglio ora Dei carabinieri Come il fatto Che a pochi mesi Di distanza Si tenti un nuovo assalto È morto All'età di 62 anni Marco Maggioli Ex Assessore allo sport E turismo Del comune di Fano Nella giunta Di Francesco Baldarelli Referente regionale Dell'Isla L'associazione Che si batte Per i diritti Dei malati Di Isla Malattia Che lo ha colpito 15 anni fa Maggioli Un passato da DJ A Radio Fano Tra gli anni 70 e 80 Amante della musica Jets Grazie a lui A Fano Si è potuto ascoltare Del jazz Con un gemellaggio Straordinario Con il festival Umbria Jets Nella vita di Marco Maggioli C'è stato spazio Anche per l'impegno Politico Nel partito Repubblicano Negli anni 90 A dare la notizia Della morte È stata La moglie Mara Con un messaggio Ostruggente Postato Su Facebook La salma Di Marco Maggioli Sarà esposta Nell'obitorio Di Fano Nella mattinata Di martedì Mentre i funerali Si terranno Nella chiesa di San Paolo Al Vallato Alle 15 Di mercoledì Alla moglie Mara E alla figlia Laura Le condoglianze Di tutta La redazione Di Fano TV C'è stato un incidente Un incidente stradale Intorno alla mezzanotte Tra sabato e domenica Nel quale sono rimaste Coinvolte due auto Una Mitsubishi E una Fiat Punto Nel tratto di strada Flaminia Tra Lucrezia E Carrara di Fano La Punto Ha subito Molti danni Mentre la Mitsubishi È finita nella scalpata Sul lato sinistro Della carreggiata Centrando in pieno Un cassonetto Della raccolta Differenziata Sul posto 118 polizia E vigili Del fuoco Di Fano A Monte Maggiore Al Metauro Ancora In tanti Con il fiato Sospeso Per l'esito Del referendum Sulle fusioni Con Serungarina E tra Serungarina Monte Maggiore E vediamo Il servizio Di Lino Balestra I sostenitori Del no A Monte Maggiore Non ci stanno A subire Quello che vedono Come uno scippo Bellebuono Della loro volontà Espressa Nel referendum Di domenica 13 Che aveva messo In evidenza Una schiacciante prevalenza Dei no Alla fusione Con gli altri due comuni A buttare benzina Sul fuoco La lettera firma Dei tre sindaci Indirizzata alla regione Dove si chiedeva Di procedere Alle valutazioni Di competenza Per la fusione Dato che Nei tre comuni Complessivamente I favorevoli Alla fusione Era la maggioranza Dei votanti 2652 Mentre i contrari 2125 Pertanto Nella giornata Di oggi Si riunisce In riunione La commissione Affari istituzionali Per le valutazioni Del caso Ma il fronte Del no Chiede al sindaco Alesi Di rispettare La volontà Dei suoi concittadini E di uscire Dalla fusione E così Sabato mattina Manifestazione in piazza Sotto la sede Del comune Siamo stati chiamati Il 13 di novembre A un referendum Per votare Sì o no Alla fusione I cittadini di Montemaggiore Con il 65% Un voto chiaro E netto Ha detto no Alla fusione Questa democrazia Il 13 di novembre Finisce Perché ribalta La sua posizione Facendo una sommatoria Di voti Dei tre comuni E il no Di Montemaggiore Non avrebbe mai raggiunto Il sì Di saltare Qualcuno sta dicendo Che stiamo facendo Non solo noi Un po' La stampa in generale Della disinformazione In realtà Non c'è nessuna disinformazione Credo che sia palese Il discorso A Montemaggiore I cittadini La maggior parte Dei cittadini Si è espressa Per rimanere Autonomi Quindi non vogliono La fusione Per cui Montemaggiore Deve essere considerata Fuori da questo discorso Poi se gli altri Due comuni Saltare e Serungarina Vogliono andare avanti Per la loro strada Che facciano pure Però Montemaggiore Credo che sia giusto Rispettare Il voto Che c'è stato Appunto Con il referendum Del 13 di novembre E adesso Invece andiamo A leggere Le vostre segnalazioni Ci sono I nostri reporter Di strada Sempre molto attivi Che ci inviano Ogni giorno Segnalazioni Al 338 4968 250 Allora Cominciamo da queste fotografie Che ci ha inviato Un nostro reporter Si tratta di fioriere Prese di mira Dai vandali Siamo in zona Sassonia A Fano Nel fine settimana Oltre ai danni C'è da registrare Anche la sporcizia Tutto attorno E questa è la fotografia Sono le fotografie Che ci ha inviato Appunto Il nostro reporter Ma un altro reporter Questa mattina Dopo aver visto Il camion Dei vigili del fuoco Ci ha mandato Questa fotografia Noi ci siamo Informati E praticamente Si tratta Di un uomo Che è rimasto Chiuso nell'ascensore Dell'ospedale Santa Croce Invece di Invece di Seguire Le istruzioni Scritte Su un cartello All'interno dell'ascensore Ha deciso Di chiamare I vigili del fuoco Quindi ha fatto Il 115 Che poi Naturalmente Si sono presentati All'ingresso Dell'ospedale Per liberare L'uomo Dall'ascensore Poi Un altro filmato Lo andiamo a vedere subito Siamo al mare Al mare È un filmato Girato Su Facebook Da Massimo Agostini Vedete Ci sono persone Che ieri Vista anche La bella giornata Le temperature Gradevoli Hanno Fatto un bagno Al mare Siamo anche qui In Sassonia Insomma Uno scenario Certamente Non da fine novembre Manca Meno di un mese Al Natale E guardate Qual era appunto Lo scenario ieri Oggi invece A distanza di 24 ore Lo scenario è completamente diverso Pioggia E l'arrivo Del freddo Per tutti gli aggiornamenti Ci colleghiamo adesso Con Francesco Cangiotti De Geometeo.it Buonasera Francesco Allora Le ultimissime Le ultimissime Quali sono? Ecco Le ultimissime Sono che In queste ore Sta aggiungendo Appunto Una colata Di aria fredda Che investirà In maniera Decisamente Bassiccia Alla penisola Balcanica Ma comunque Nelle prossime ore Tenderà a lambire Proprio il nostro versante Adriatico I primi effetti Di questo Cambio di circolazione Sono già evidenti Da qualche ora E si stanno manifestando Sotto forma Di queste correnti Dai quadrati Nord orientali Che hanno determinato E determineranno Ancora di più Nel corso della notte Un sensibile aumento Del motondoso Quest'aria fredda È appunto Accompagnata Da un brusco calo Delle temperature Infatti Rispetto ai giorni scorsi Passeremo A dei valori In calo Anche di 10-12 gradi Rispetto Appunto A quelli che abbiamo Registrato Nella giornata Di oggi Durante la notte Queste correnti Fredde Innescheranno Una certa instabilità Che sarà più presente Sui settori Collinari Appenninici Dove appunto Questi rovesci Visto il calo Delle temperature Tenderanno ad assumere Carattere nevoso Fin verso i 300-400 metri Di quota Quindi A partire dai settori Collinari Proprio nella nottata E nella prima Mattinata di domani Potrà fare la comparsa I primi fiocchi di neve Tuttavia Gli accumuli Saranno Abbastanza Esigui Limitati Soprattutto Sui settori Più In quota Poi Che cosa succederà Pochissimi giorni Di stabilità Non torneranno Comunque le temperature Immagino 18-20 gradi Dei giorni scorsi Poi Ecco sì Le temperature Tenderanno a mantenersi Al di sotto Della media Soprattutto Nei prossimi due giorni Infatti Ci attendiamo Diffuse gelate Specie Nei fondo valle Dove le minime Nella giornata Di mercoledì E giovedì Potranno raggiungere Anche i meno 6-7 gradi Poi ecco Questo miglioramento Sarà abbastanza Di breve durata Infatti I modelli Ci indicano Già Per il prossimo Fine settimana Una nuova discesa Di aria artica Che potrebbe Innescare Una nuova circolazione Di aria Appunto Di aria fredda Che potrebbe Determinare Appunto Un sensibile Peggioramento Con nuove nevicate In arrivo Questa volta Anche più Con maggiori accumuli E più consistenti Bene Grazie Allora per questi aggiornamenti A Francesco Cangiotti Di Geometeo.it E adesso Parliamo invece Del guasto Un serio guasto Che ha colpito Nuovamente La piscina Dini Salvalai L'unica piscina Che c'è a Fano Si è rotta La caldaia E per ripararla Ci vogliono Pensate 50.000 euro Non è una cosa da poco E allora Per i prossimi giorni L'impianto Rimarrà chiuso Allora Purtroppo C'è una situazione Imbarazzante Incresciosa Nella piscina Un guasto Un guasto Tecnico Più che imbarazzante Ed increscioso Lo definirei Drammatico In quanto Purtroppo La piscina È del 1975 Purtroppo Mettiamo un cerotto Da una parte Ma si rompe Da un'altra L'impianto Come dicevo È molto vecchio E questa mattina Ci ha abbandonato Completamente La caldaia Quindi Io mi scuso Da parte Della Fano Un fortuna nuoto Ma Non ce ne voglia L'utenza Per i prossimi giorni Immaginiamo che l'impianto Rimarrà chiuso L'imbarazzo Deriva anche dal fatto Che gli atleti Che si allenano lì da voi Sono sotto gara In questo periodo E poi in previsione C'è un evento Importante Sia per la città di Fano Che per tutti gli atleti È molto importante Che gli atleti nuotino In quanto già domenica Abbiamo delle gare a Riccione Quindi dobbiamo onorarle Tutte le domeniche Praticamente I nostri agonisti Da propaganda Fino ai master Quindi tutte le categorie Agonistiche Meso di enti A B Gli assoluti Hanno gare Praticamente ogni domenica E stare dei giorni Senza notare È impensabile I nostri tecnici Si sono già attivati Con società amiche Per trovare spazio acqua Per permettere Ai nostri giovani Di allenarsi E quello che ci renderebbe Ancora più Dispiacere È il fatto che abbiamo Organizzato Con tanto lavoro Una manifestazione In favore di Teleton Ovvero una 48 ore di nuoto Una staffetta di nuoto Il 16, 17, 18 di dicembre E vedere che questo va a monte Perché purtroppo Non c'è più La caldaia in piscina Mi dispiacerebbe veramente tanto Tempi tecnici In quanto tempo Ci si potrebbe ripartire Se tutto andasse per il meglio? Con il beneficio Dell'inventario Io ho parlato con il tecnico Che ha fatto il sopralluogo Questa mattina Noi ci siamo attivati immediatamente Alle 7.30 Avevamo già un tecnico in piscina Quindi immaginiamo Sette giorni lavorativi Oppure sette giorni di calendario Dieci Via Però purtroppo Non è per domani Allora chiudiamo con l'apertura L'accensione dell'albero di Natale In piazza 20 Settembre Di fronte a una piazza stracolma E gremita Una successione di suoni Musica, luci ed effetti speciali Che ha lasciato tutti a bocca aperta Un grande spettacolo È andato in scena domenica pomeriggio In piazza 20 Settembre a Fano Stracolma di gente Per assistere all'accensione Dell'albero di Del Signore Seri Che ha ufficialmente dato il via Alle iniziative legate al Natale Che animeranno nei giorni di festa Tutto il centro storico È un periodo molto ricco Questa nella città di Fano Che abbiamo la fortuna Di avere un bel centro storico E quindi Ospichiamo che veramente Vengano tante persone E non soltanto per i fanesi Ma anche quelli che vengono Dalle zone vicine Meno lontane E quindi ecco Spero e penso Che sia anche una grande occasione E anche un'opportunità Per tutti gli operatori commerciali Uno spettacolo al quale Ormai l'ultrasound ci ha abituati Ma che emoziona sempre tanto La piazza si anima poco a poco A ritmo di musica E tutto parte dal suo protagonista principale L'albero al centro della piazza Che quest'anno avrà un ruolo attivo Durante tutte le festività È lui che scandirà i tempi E le modalità Dei tanti eventi pensati E programmati Dalla Proloco di Fano Bellissima direi così Inaugurazione Una bellissima accensione Dove l'albero ha mostrato Tutta la sua energia Avevamo detto di dare qualcosa in più All'albero quest'anno Bene, l'albero prenderà vita Tutti i sabati e le domeniche E oggi si è espresso in modo particolare Perché con la sua energia positiva Ha colorato tutti i palazzi Che abbiamo alle nostre spalle Ma soprattutto ha acceso la città E ha acceso tutti quei punti In cui abbiamo collaborato Con i commercianti Con le associazioni Tutti quei punti che hanno preso vita Quindi il bosco di Piazza Costanzi La casetta dei giardini di Via Garibaldi I giardini amiani Con questo bellissimo bosco illuminato Quindi una città che prende vita E adesso siamo allo sport Matteo Del Vecchio Sì, grazie Marco Apriamo come sempre con il calcio La pagina sportiva qui su Fano TV Parlando dell'Alma Juventus Fano Che sabato Come spesso è capitato in questa stagione Ha giocato alla pari Con una formazione più quotata Purtroppo senza però riuscire A portare a casa punti È un Fano propositivo E per nulla intimorito Quello che sabato Per la quindicesima giornata Di Lega Pro È sceso in campo a Pordenone Contro quella che Al termine dei 90 minuti Risulterà essere poi La capolista del girone Tutte nel primo tempo Le tre reti del match Ad aprire le danze Già al secondo minuto È Ingegneri Che insacca di testa Su cross di Burrai Gelando il debuttante Portiere Granata Andreacci Preferito a Menegatti L'Alma rischia di capitolare Ancora nei primi 20 minuti Prima di trovare La via del pari Con Masini Che trasforma in oro Il traversone di Borrelli Dura poco la gioia del pari Però Perché Berrettoni Sugli sviluppi di un fallo laterale Porta ancora avanti I padroni di casa Per quello che risulterà Essere poi Il gol della partita I restanti 70 minuti di gioco Scorrono sui binari Dell'equilibrio Con il Fano Più volte pericoloso Con Borrelli e Bellemo Prima del generoso Forse in finale Ben gestito però Dai padroni di casa E per l'Alma Che dopo 15 giornate E quart'ultima in classifica In coabitazione col Teramo Il prossimo turno di campionato È di quelli da stadio Tutto esaurito Sabato arriverà L'ex bomber di Milano E nazionale Pippo Inzaghi Che con il suo Venezia Proprio in questi minuti Sta cercando di riconquistare La vetta del campionato Nel posticipo col Padova E come abitudine Dal calcio Passiamo al calcio a 5 Perché nel weekend C'è da registrare L'unplane Delle squadre fanesi Che hanno conquistato Tre vittorie In altrettante partite 4-2 Il punteggio Con cui l'Alma Juventus Fano Supera in casa L'Atria Teramo Ma a salire Agli onori della cronaca In questo turno di campionato È Leta Beta Che firma Il primo successo Della propria storia In serie B I ragazzi di mister Davide Barnesi Espugnano per 7-1 Il campo del Cus Macerata E mettono la freccia Ai danni Proprio dei biancorossi Ai quali i fanesi Cedono l'ultimo posto In classifica Ottima la prova Del neoacquisto André Galvao Autore di una tripletta Due gol Per l'altro portoghese Dos Santos E una rete a testa Per Ettai E Peverini A completare Il tris fanese Di vittorie Ci ha pensato Domenica il Flaminia Che nel campionato Di serie A Femminile Ha superato per 2-1 Il Real Grisignano Riconquistando la leadership Per le ragazze Di Alessandre Imbriani A timbrare il cartellino Sono state Claudia Giovannelli E Valentina Falcioni E dalle vittorie Del calcio a 5 Passiamo a quelle del volley Perché continua Il magic moment Della Virtus Nel campionato maschile Di serie C Trascinata da un ispiratissimo Luca Mancinelli La truppa allenata Dal tandem Pascucci-Vichi Si impone per 3-1 In casa contro Iesi E al giro di Boa Staziona al quarto posto In classifica In campo femminile Invece continua Il momento negativo Dell'Apav Calcinelli Lucrezia Che nonostante Il tanto impegno Non riesce a strappare Nemmeno un set Alle anconetane Del CK Servizi Team Volley Picola parentesi Ora dedicata Alle bocce Perché nei giorni scorsi Si sono aperti I battenti Sui campionati Nazionali di società Subito derby In serie A Con la prima giornata Che ha messo di fronte Le bocciofile San Cristoforo E la combattente Nell'impianto di via Castelfidardo I padroni di casa Di San Cristoforo Si sono imposti Per 5-3 Mentre nell'altro match Di giornata 4 pari Nella sfida Tra Metaurense E Duilio Fabi Turno di riposo Invece Per la bocciofila Marotta E prima dei saluti Questa sera Vi vogliamo parlare Di Mattias Canapini 24enne fanese Che da sempre È impegnato In progetti Che coniugano Lo sport Ed il sociale Canapini Che con il suo Fano rugby Guida il campionato Di C1 Oltre ad essere Un ottimo sportivo È anche un ottimo Scrittore e fotoreporter E il suo ultimo progetto Mira a far conoscere Quelle realtà Che utilizzano il rugby Con finalità sociali Ecco che allora Durante il suo viaggio Canapini ha incontrato Una squadra composta Esclusivamente da omosessuali Una da rifugiati politici E una da ragazzi autistici E per settimane Ha vissuto a stretto contatto Con loro Dentro e fuori del campo I suoi racconti E i suoi scatti Saranno poi oggetto Di un libro Cosa già avvenuta In passato In due occasioni Quando Canapini Il suo taccuino E la sua macchina fotografica Hanno affrontato viaggi In India Balcani Nepal E Siria E con la bella storia Di Canapini Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Vi ricordiamo come sempre L'indirizzo internet Dove poter fare Le vostre segnalazioni Che è Sport Chiocciola Fanotv.it Per questa sera Non ci sono altre notizie Da parte mia Dalla redazione sportiva L'augurio a tutti voi Di una buona serata Grazie a Matteo Del Vecchio Non c'è altro Il telegiornale Occhio alla notizia Finisce qui Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti